Un saluto da Pippo Vardelli, parliamo di calcio oggi, parliamo di Piacenza Calcio e lo facciamo con Cecerebole, tifoso del Piacenza e membro storico della Curva Nord. Ciao e benvenuto sulle nostre frequenze. Ciao a tutti e grazie a voi di avermi chiamato. Domenica c'è una partita molto importante, una partita col Mantua, Piacenza che non se la sta passando bene, però comunque ci crede nella salvezza, deve crederci. Assolutamente sì, credo che sia una delle partite più importanti degli ultimi dieci anni, qua si tratta di spravvivenza, di orgoglio e ci vuole un qualcosa in più in questo momento per vincere, cerchiamo di darglielo a noi come città, come pubblico, è una sorta di appello disperato. Un appello che tra l'altro non coinvolge solamente i tifosi del Piacenza ma anche la città intera. Sì sì no, credo che sia rivolto veramente a tutta la città, a chi vuole bene a questa città, nel senso credo che il Piacenza Calcio rispecchi la città, quindi la risposta dovrebbe arrivare, spero, da tutta la città. Più volte la società, nelle parole del Presidente, nelle parole dei giocatori, ha detto di crederne la salvezza, di continuare a crederci. Voi come tifo ci credete ancora? Ma noi ci crediamo, sì, saremo sempre gli ultimi ad arrenderci, ci si arrenderà solo all'eventuale matematica che spero non arrivi, quindi noi crederci ci crediamo, la squadra la seguiamo comunque ovunque, sì, noi ci crediamo. Logicamente adesso veramente serve un qualcosa in più da noi, serve un qualcosa in più dalla squadra, noi quello che possiamo fare cerchiamo di fare. Una partita che ovviamente seguiremo domenica su Radio Sound alle ore 14.30 con il ringraziamento a Cecereboli per essere stato con noi e per aver chiamato a raccolta tutti i tifosi del Piacenza. Grazie a voi e speriamo di essere veramente tanti, spingiamoli, spingiamoli ragazzi, il Piacenza ha bisogno. Grazie a voi, buona giornata.